Oh Marco, ma tu mentre stavo facendo immersione ti sei accorto che è passato un sottomarino vicino a noi? Sottomarino? Sottomarino. Perché? No. Comunque sicuramente era un sottomarino di carabinieri. Carabinieri. Ma come fai a dire carabinieri? Perché hai letto la scritta? No, non c'era la scritta. Io mi sono avvicinato sott'acqua, sono andato vicino, ho bussato l'oblò, quella viene aperta. Allora carabinieri. Carabinieri.